Meno reati e più controlli. Questo è il bilancio 2020 della Questura di Pescara che nell'anno della pandemia ha registrato un notevole calo rispetto allo scorso anno dei delitti denunciati. Probabilmente perché chiusi dentro casa è più raro delinquere o quantomeno non lo si viene a sapere. Da gennaio a novembre nella provincia di Pescara sono diminuiti di un quarto i tentati omicidi e quasi del 30% gli atti persecutori. In calo anche le violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia seppur i centri antiviolenza avvisano che il lockdown ha inasprito queste problematiche. Per chi è rinchiusa in casa col proprio guzzino 24 ore su 24 infatti è molto più difficile riuscire a chiedere aiuto. Secondo i dati giù anche i reati contro la proprietà privata benché l'enorme di vario tra i ricchi e i poveri sia in costante aumento ed aggravato dalla pandemia. I furti denunciati sono infatti diminuiti di oltre il 30% sono però aumentate le rapine di circa 7 punti percentuali e mezzo ed è boom dei reati di usura che sono raddoppiati smettendo così l'antica locuzione latina secondo cui il denaro non può generare denaro e col procedere della digitalizzazione aumentano le truffe e le frodi informatiche di quasi il 15% e i dati sono più o meno coerenti anche restringendo il campo alla sola città di pescara. Le persone arrestate quest'anno sono state un quarto in meno rispetto all'anno scorso. L'ufficio prevenzione generale ha però più che raddoppiato le persone controllate che quest'anno sono state quasi 11.000 e coi posti di blocco ogni angolo volti a monitorare gli spostamenti sono più che triplicati i veicoli controllati 3.231 nel 2020. Ricco bottino quello delle sostanze stupefacenti. La cocaina sequestrata quest'anno è più che raddoppiata rispetto al 2019 mentre i cannabinoidi sottratti sono 10 volte tanti quelli dell'anno scorso. Costante invece la quantità di eroina sequestrata. Nel complesso sono state quasi 70.000 le chiamate al 113 nel corso del 2020.